Modena Motor Gallery Modena Motor Gallery, la seconda edizione, 10-11 maggio presso la fiera di Modena, è una mostra a mercato con delle esposizioni straordinarie, abbiamo pensato di rivolgerci non solo a coloro che sono esperti, appassionati, grandi culturi dell'auto e della moto storica, abbiamo pensato anche alla famiglia e quindi è veramente un'occasione per visitare il medio della produzione italiana nella motoristica storica per vedere tanti oggetti, memorabilia, opere d'arte, accessori, ricambistica, però sempre ed esclusivamente in tema motori italiani. Quindi un grande evento per le persone esperte, per i grandi culturi del motorismo d'epoca, ma anche per la famiglia, per il signore e per i bambini che possono tranquillamente visitare i quattro padiglioni e l'area esterna, una mostra straordinaria delle auto spider dagli anni del dopoguerra fino agli anni 80, una mostra altrettanto importante, unica, mai fatta finora con le cinque gran turismo prodotti in questo territorio che formano una corona a margherita straordinaria e poi una mostra sulla storia della meccanica della Maserati curata da Matteo Panini e ancora delle chicche tipo un aereo, un vero e proprio aereo della prima guerra mondiale col simulatore proveniente dal museo Caproni di Trento che fa parte del museo d'Use. In galleria appena entrati si potranno ammirare le biciclette che volano, ma anche le biciclette vicino a voi, biciclette storiche e dopo una carellata delle più importanti marche di moto prodotte in Italia, ma non solo. Nella galleria e anche negli altri padiglioni si potranno assaggiare i prodotti tipici di Modena, le tigelle, assaggiare l'aceto balsamico tradizionale, i nostri lambruschi, facile da raggiungere, uscita autostrada Modena Nord, facile da parcheggiare, un parcheggio enorme che vi permette di accedere in tre secondi all'interno dei padiglioni, stiamo parlando del 10-11 maggio 2014. Grazie a tutti! Grazie a tutti!